Musica Sì, gol, fantastico Finalmente Gol, gol, gol Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla L'autore dei gol non si è lasciato sfuggire l'occasione Si è fatto trovare Proente Ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone Grande Gol, gol, attenzione Sì, sì Grande Roicanu, grande Roicanu Fantastico Bello, bello, bello No, 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 no Ha scappato da un sacco grande occasione Si è inizio, molto bene di uno spazio E ha concluso la tendenza Goal, 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 attenzione Siamo 3-1 Siamo 3-1 Grande Roicanu, grande Straordinario Fantastico Ti forza, ti forza come solo lui sa fare Grande Roicanu, grande Domanda Domanda Sì, rimasta Il nuovo avanti Dei gol di vantaggio sui metani Attenzione Nel calcio può succedere di tutto grande, 3 a 1, risultato finale benvenuti a tutti, ci attende una grande partita da un momento all'anno, ci attende un grande partita io sono Fabio Canessano ci sarà anche Luca Nortezi c'è una certa differenza tra le due squadre in termini di possesso palla nessuna delle due dovrà riuscire agli esseri corretti ma il tuo ho fatto un po' di là, di là, di là, di là, di là in qualche modo abbiamo segnato, forza, 1-0 E' dei golli, è dei golli! Roikanu, attenzione, Roikanu, grande, 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 finalmente, mi è riuscito a rubare palla, finalmente, grande Roikanu, grande, bello, cliniche, non ho più cliniche, attenzione, no ragazzi, rigore, poi tiro di sinistro, adesso sinistro e le golle, fantastici! Scatta, scatta, seguiamo, ora ci posso vedere! Tutto! Di forza! E' dei golli! Di forza! Andiamo, andiamo! Ancora Roikanu! Ancora Roikanu! Mette la partita! Assicuro! 3 a 1 3 a 1 doppietta come nella prima giornata anzi nella seconda giornata doppietta ragazzi doppietta vi vediamo di forza ragazzi di forza guardatelo lotta come lui sa fare pede palla rimpallo fortunato piccione ancora la mette dentro niente da fare per il portiere ecco inizia così 3 a 1 bene 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 bello 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 segna ed è gol assisti spettacolare di Roikano e un tiro bellissimo dell'attaccante bagni è in basato del genere Roikano fantastico il passaggio di tronante alto alla pillo guardatelo lì fantastico e poi gol sicuro davanti a pot stop perfetto fantastico ragazzi bellissimo il passaggio di tronante di Roikano 1 a 0 2 a 0 vai così vai così vai tuo tocco preciso basta basta di nuovo vuole la profondità e c'è la zona percorosa e il secondo vai 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 tira E' il gol attenzione fantastico fantastico ragazzi tantissimo gol sono riusciti a penetrare dentro l'area di ricorda e poi portarci la palla sul sinistro e segnare E' Roikano può vedere di nuovo i suoi capelli tutti colorati attenzione e poi è andato a colpo sicuro 2 a 0 2 a 0 assi e gol rivediamo il gol riconchiamo dentro l'aria di rigore finta dreaming secco e poi andiamo dentro l'aria di rigore un tiro potentissimo niente da fare per il portiere 2 a 0 forza 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 si segnalo fantastico ragazzi un passaggio preciso filtrante per il nostro compagno d'attacco non so come si pronuncia ragazzi ma comunque gli ho fatto fare una bellissima doppietta lo incano 2 assist e un gol 3 a 0 la partita ormai ormai è compromessa ragazzi bellone ovviamente dreamy secco ragazzi come vedete e poi passaggio preciso il trante un po' di testa e gol 3 a 0 ragazzi 3 a 0 fantastico finita tensione 3 a 0 c'è ovviamente tensione prima di questa partita primo turno tutti i 90 minuti devo riuscire a passare possono festeggiare hanno letteralmente travolto gli avversari stravincendo la partita passa 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 come fuori aria attenzione il fiduolo di roi kanu fiduolo di roi kanu finalmente siamo riusciti a sbloccare la partita tantissime occasioni ma alla fine ci siamo riusciti 1 a 0 bene ripetiamo il replay attenzione ragazzi guardate un rimballo favorevole per noi facciamo ci facciamo dare la palla fuori aria di rigore il seruro destro che è una bomba ragazzi è una bomba come solo il rai kanu sa fare bene finita ragazzi è finita 1 a 0 con il collo di roi kanu partita molto combattuta dove abbiamo rischiato anche di subire il pareggio ma va bene così 1 a 0 ragazzi è davvero tutto finita giornata contro lanse il pallone ha superato la linea rimessa laterale sembra esserci un cambio ragazzi ci hanno sostituito purtroppo non siamo riusciti a segnare questa partita cerca spazio no ragazzi hanno segnato 1 a 0 la prima sconfitta che questa finita giornata prima sconfitta purtroppo ragazzi non siamo riusciti a fare gol ce ne siamo mangiati tipo 2 a 3 ragazzi purtroppo loro hanno segnato e l'allenatore ci ha sostituiti ma abbiamo subito gol purtroppo purtroppo ragazzi 1 a 0 per loro ragazzi ci hanno diversi compagni brutti là davanti grosso però è stato impreciso ok se vi siete sintomizzati su ora c'è poco da dire un paio di inforzioni in avanti senza eserire vai 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 ce lo possiamo fare ce lo possiamo fare ragazzi forza questa è buona questa è buona proviamoci è dei gol ragazzi finalmente dove uno stop nella quinta giornata che non siamo riusciti a segnare ragazzi siamo riusciti a segnare adesso subito e ne avvio di partita 1 a 0 ragazzi 1 a 0 Roy Cano Roy Cano vinta andiamo dentro l'area di vigore e siamo riusciti a segnare 1 a 0 dai dobbiamo vincere la passaggio ora devono evitare la rimonta degli avvertari ottima accelerazione sulla sinistra come potremmo scopare per passaggio vai passaggio filtrante bellissimo bellissimo ragazzi abbiamo fatto il passaggio filtrante ma il nostro compagno ha fatto un gol fantastico incrociando con il tiro mancino sull'angolo destro e ha fatto un bellissimo gol ragazzi andiamo a rivedere il replay ragazzi come vedete siamo riusciti a fare un'inclusione nella fascia sinistra e poi fare un passaggio filtrante il nostro compagno ma ha fatto un tiro eccezionale bellissimo 2 a 0 ragazzi 2 a 0 buono per la classifica ma ci faceva dare la palla bene tensione tensione di rigore il tiro ragazzi fantastico fantastico ragazzi tensione 3 a 0 2 con un assist anche ho battuto un forco ragazzi noi ci siamo fatti dare il pallone all'interno dell'area di rigore anzi dentro l'area di rigore siamo riusciti a fare un drill e poi andate a segnare andiamo a vedere ragazzi ecco lì fantastico schema dreaming secco ragazzi e poi il tiro potentissimo del nostro nostro noi caro in queste prime 6 giornate sta facendo il suo dovere è fallito soltanto in una partita contro la seta siamo bene così 3 a 0 e un'altra vittoria non ci attende si riparte dal 3 a 0 brutta conclusione basta basta eccolo ghiaccio ma poi arriva lui 4 a 0 patita in ghiaccio ragazzi bene così bene così bene così 4 a 0 ragazzi 4 a 0 il poker è servito abbiamo partecipato dunque 4 gore ragazzi tiro rimballato e poi la parata che si doveva anche bloccare ma ecco che arriva il nostro compagno e la mette dentro dalla pace d'aria di vigore andiamo a rivedere di nuovo l'azione dopo tanti tentativi è arrivato il 4 gol ragazzi è finita 4 a 0 ecco ragazzi la classifica siamo primi con 5 vittorie e una sconfitta contro la zeta ma ci stare ragazzi il cambiato è molto molto combattuto adesso perché comunque siamo con le prime 6 giornate abbiamo fatto un grandissimo cambiato finora perché ragazzi siamo riusciti a fare moltissimi gol tantissimi assist e siamo lì siamo lì a combattere per il primo posto le prime posizioni peraltro le prime tre andranno i champions ragazzi ragazzi sette partite 9 gol 4 assist 6.9 media voto ragazzi una 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 statistica fantastica non potevamo cominciare meglio siamo proprio stiamo andando benissimo ci vediamo direttamente alla prossima partita ragazzi lasciate un bel mi piace vi raccomando lasciate un bel mi piace se vi piace questa serie se vi sta piacendo anche per sostenere il nostro giocatore Loikani che sta facendo tantissimi gol e speriamo di continuare così magari a diventare giocare in una squadra più forte